Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come creare una suoneria semplice e veloce utilizzando l'applicazione GarageBand, utilizzando appunto una canzone che vogliamo. Aprendo l'applicazione possiamo pigiare su Crea Brano il foglio bianco. Ora pigiamo sul microfono con voce e cliccando invece il tasto più in alto a destra si vanno a inserire 15 unità, ovvero sarebbero i 30 secondi della canzone. Ora selezioniamo il terzo tasto in alto a sinistra. Dunque leviamo il ticchettio del metronomo, clicchiamo sul secondo tasto in alto a destra si apre una pagina, clicchiamo Musica, Brani e scegliamo il brano che più vogliamo fare a suoneria. Lo trasciniamo verso il basso e ora ritagliamo la canzone fino al nostro punto preferito che vogliamo usare appunto come suoneria, ricordando di arrivare sempre da 1 a 15. Ora clicchiamo sulla freccia in basso a sinistra, andiamo su Seleziona, clicchiamo il brano, Esporta, poi il primo tasto a sinistra in basso. Rinnominiamo la nostra canzone e aspettiamo che la canzone venga esportata. Fatto ciò, ritroveremo la nostra canzone nelle impostazioni delle suonerie insieme a altre canzoni già modificate. Non resta che usare la canzone come suoneria. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento se ci siete riusciti e alla prossima!